Siamo presso la sede provinciale di USB, in quel di Talsano Taranto, ho al mio fianco Francesco Rizzo, coordinatore provinciale e tracceremo un po' il bilancio, vedremo come stanno andando le cose per quanto riguarda acciaierie d'Italia, ex ILVA. Allora Rizzo, partendo così da un quadro generale, sembra di stare ai nastri di partenza. È nato il nuovo soggetto, l'acciaierie d'Italia, dalla unione, da questo mix pubblico-privato, Invitalia, Stato e ArcelorMittal, però è sotto l'aspetto ambientale, è sotto l'aspetto occupazionale, come detto, siamo al punto di partenza. Nulla, non c'è stata alcuna evoluzione, al limite registriamo involuzioni. Sì, solo involuzioni che vanno avanti oramai da mesi, pochissime certezze e un modo di gestire la fabbrica, io l'ho già dichiarato più volte, che è molto discutibile. E la sensazione, anzi, diciamo la certezza oramai, non è neanche più una sensazione, che tutto quello che si fa, come una questione delle ferie, che sono un po' la punta dell'iceberg di quello che sta accadendo. Ferie convertite in classe integrazione. Sia un atteggiamento voluto di continua provocazione nei confronti della classe operaia, una classe operaia, tra l'altro, che è provata da più di dieci anni di vicende legate alla questione ILVA, e quindi, come dire, anche psicologicamente molto provata. Ecco, Rizzo, analizziamo il rapporto con il governo. Il governo ancora non vi ha convocati, numerose promesse di convocazione, però sotto l'aspetto occupazionale, sotto l'aspetto industriale e ambientale, non si vede nulla all'orizzonte, non si sa il futuro, anzi il presente di questa nuova realtà, di questa azienda, è nebuloso a dir poco. Il governo ha approvato in gran fretta il provvedimento per dare i 400 milioni a Darselornittal, perché serviva alla società. Dopo di ciò, completamente spalito dai radar, noi abbiamo avuto una serie di dichiarazioni fatte dai ministri, che più volte dicevano che saremmo stati convocati per l'inizio di questa benedetta trattativa, e soprattutto per conoscere sto benedetto piano, che in tutta sta vicenda, negli ultimi due anni, a seconda delle riunioni, a volte c'era, a volte non c'era, di questo abbiamo ampiamente discusso, ad oggi diciamo che ufficialmente ancora noi non abbiamo visto nulla, però siamo arrivati a metà settembre, l'ultima dichiarazione di Giorgetti è che per metà ottobre dovrebbero uscire sto benedetto piano, dico così, oramai la strada è delineata, lì lo Stato ci sta mettendo i soldi, i contribuenti ci mettono i soldi, la gestione, come dire, nei fatti continua ad essere al 100% una gestione privatistica e, aggiungo io, molto molto spesso completamente al di fuori delle regole, ciò è grave, è gravissimo perché una società con capitale pubblico, con il pubblico dentro, non può andare poi a violare quelle che sono le leggi, le regole fatte dai governi stessi. Corizzo, noi apprendendo, prendendo visione dei vostri comunicati, registriamo continue criticità strutturali, detto in parole povere, la fabbrica, lo stabilimento sta letteralmente crollando a pezzi, atteso che la manutenzione, neanche quella ordinaria, non viene realizzata, cioè assistiamo a continue situazioni in cui, prima o poi, potrebbe accadere qualcosa di irreparabile per la salute, per l'incolumità di chi ci lavora. Beh sì, ma sì. L'elenco che voi avete fatto è lungo, come dire, comparto per comparto, staremmo fino a domani mattina a elencare tutte le criticità. No, basta poi un certo punto, sono girato un po' di immagini, nell'ultimo periodo, il primo giorno che ha piovuto, basti vedere come si sono, in alcuni impianti c'erano 40 cm di acqua, tra l'altro con cavi di corrente elettrica, cioè situazioni drammatiche da quel punto di vista. Il dramma non è solo per la condizione che si vive, è soprattutto per il fatto che manca qualsiasi elemento che ci possa far pensare che prima o poi ci metteranno mani, metteranno in sicurezza questi impianti. Una barca alla deriva? Assolutamente sì. Con la Gramante che nella riunione, prima del finanziamento di 400 milioni, il ministro Orlando, quando noi denunciammo una grave situazione impiantistica legata alle questioni di sicurezza e ambiente che esibili all'interno della fabbrica, lui disse che i 400 milioni sarebbero serviti alle manutenzioni straordinarie degli impianti. In realtà noi sappiamo che i 400 milioni sono serviti a ben altro, sono serviti a pagare i debiti che Arcelorano aveva contratto con lo Stato stesso, cioè è una situazione assurda e surreale in cui ne pagano le conseguenze i lavoratori. Noi non abbiamo detto, io spero che inizi subito la trattativa, ma semplicemente perché vorremmo, ah per chiudo parentesi, mettere la parola fine a una vicenda di questo tipo. L'abbiamo suggerito più volte al governo. Mettiamoci al tavolo, facciamo questa trattativa purché c'è una pregiudizia da parte nostra, questa trattativa tenga dentro alcune proposte che noi abbiamo fatto. Diciamo in generale, noi riteniamo che il governo più che occuparsi dei problemi di Arcelor Mittal dovrebbe un attimo prima occuparsi dei problemi della città e dei lavoratori. Sui lavoratori abbiamo fatto una serie di proposte, sappiamo che c'è una parte dei lavoratori che andrebbe tranquillamente via perché è stanca e quindi abbiamo proposto di mettere gli incentivi all'esodo. c'è il riconoscimento rispetto alle attività che si svolgono all'interno di quella fabbrica, cioè pensare che il lavoro in siderurgia non è un lavoro usurante è qualcosa di vergognoso. Abbiamo proposto il riconoscimento del lavoro usurante per la siderurgia a ciclo continuo, anche qua una sorta di avvicinamento alla pensione perché non è possibile lavorare in quella fabbrica per più di 40 anni. Quindi sono elementi che noi abbiamo posto sul tavolo di discussione con il governo, abbiamo detto o ci facciamo una trattativa a 360 gradi o per quanto ci riguarda non ci sono le condizioni. Perché a me sembra che si voglia perseguire la stessa strada che si è fatta nel 2018, cioè faccio un progetto, ti faccio delle promesse, mi impegno a, ma poi alla fine nulla sarà, verranno a mancare le garanzie guarda caso dalla parte dei lavoratori, perché le garanzie dalla parte della società quelle ci stanno sempre e addirittura anche cambiando i contratti vengono pure rafforzate. Spostiamoci ai lavoratori Exilva in AS, abbiamo seguito la vostra manifestazione di protesta a Bari, avete incontrato il rappresentante che guida appunto la Task Force, per giorno 23 siete stati convocati per giorno 23, con quali aspettative? Le aspettative sono chiare dall'inizio, noi stiamo chiedendo semplicemente che questa misura degli LPU che a Genova Diciamolo a beneficio degli amici da casa, intendiamo i lavori di pubblica utilità che hanno una funzione integrativa e non sostitutiva, integrativa del reddito, ma non sostitutiva. Chiariamolo perché più di qualcuno ci ha marciato su questo fatto. Sì, si gioca tantissimo su sta cosa, c'è anche un volantino della Wilm ultimamente che dice che abbiamo chiesto alla Task Force se l'intervento degli LPU possa scontrarsi con l'integrazione del 10%, quindi per logica non è che se mi fa fare gli LPU mi toglie il 10%. Sta cosa noi l'abbiamo assolutamente esclusa, tra l'altro in uno dei documenti che noi abbiamo consegnato alla Regione Puglia, non c'è, ma il paradosso qui alla fine è che noi abbiamo detto deve funzionare esattamente come funziona a Genova. A Genova non gli tolgono il 10%, a Genova c'è un ragionamento che parte dall'80% del reddito dei lavoratori. Noi abbiamo chiesto nella parte economica alla Task Force di andare a modificare quel ragionamento, ma modificarlo per aumentare. È chiaro che stiamo chiedendo una misura che secondo noi non solo è sacrosanta, ma è una misura che aiuta anche a tranquillizzare un po' tutti i lavoratori, la massa dei lavoratori. Cioè parti dal presupposto che non ha una misura imposta in cui dici tutti i lavoratori devono obbligatoriamente, lo abbiamo detto su base volontaria, quindi ci deve essere una decisione su base volontaria, con un minimo di settimane da lavorare durante l'anno, con un riconoscimento economico importante, per dare sostanzialmente poi alla fine due risposte ai lavoratori. Uno dal punto di vista economico, perché è chiaro che sono i lavoratori che hanno famiglia e quell'integrazione sarebbe positiva. L'altra risposta che si dà direttamente ai lavoratori è il fatto che comunque li vai stare a contatto con il mondo del lavoro, quindi in questo momento siamo lavoratori un po' emarginati, sono tre anni che siamo stati espolsi dal mondo del lavoro e quindi è un meccanismo anche per tenerti dentro. Quindi il 23 ci sarà questo primo, ci si aspetta dei fatti, perché ora la Task Force ha evidenziato il fatto che c'era tutto un discorso abbastanza farraginoso tra ministeri, ora si spera che questo ITER, questo percorso abbia una sua linearità per arrivare alla meta. Volere è potere, allora il problema è lo vogliamo o non lo vogliamo, perché a me sembra che ci sono alcuni soggetti che dicono non siamo contrari ma non fanno niente per far sì che questo progetto venga portato a conclusione. Lo ribadisco di nuovo, c'è anzi al contrario un tentativo perenne di mettere nella testa delle persone elementi di inciucio che a nulla servono, come se a un certo tempo poco uscì la storia dicono oggi vi vogliono mettere fuori dal circolo ILVA, no l'abbiamo specificato, noi siamo e rimaniamo dipendenti di ILVA in AS, vincolati da quell'accordo, fino a quando ci sarà quell'accordo di salvaguardia fatto nella missione del 2018. Poi in attesa che ci chiamino, in attesa, quindi se mi chiami domani o fra dieci anni, così come hanno fatto a Genova, furbamente dico io, perché a Genova tutto nasce da che cosa? Dalla promessa che dovevano fare il forno elettrico, quindi loro dicono siccome dobbiamo fare il forno elettrico, io per tre anni prevedo la costruzione del forno elettrico e prevedo che tu devi fare la cassa integrazione, lì a un certo punto dicono ok, fino a quando non avrei fatto il forno elettrico, fino a quando non avrai recuperato le posizioni lavorative, mi concedi questa misura. Quella è la logica, è la stessa logica che vogliamo applicare noi. Quanto dureranno gli LPU dipende dai progetti che il governo porterà avanti. E quantomeno sappiamo che fino a quando verremo richiamati, aggiungo io, mai, tra parentesi, perché io penso questo in tutta onestà, ma fino a quando verremo richiamati comunque mi dai la possibilità tramite gli LPU di integrare una quota di stipendio che altrimenti avrei perso a seguito delle vicende che tutti conosciamo. Quindi questa è la logica. Poi, apre chiudo a parentesi, per onore di cronaca, alla Task Force abbiamo posto in uguale misura altre questioni per noi importantissime. C'è tutta questa storia dell'integrazione salariale. Questo 10% che ogni anno viene rifinanziato, noi abbiamo scritto chiaramente a tutti, abbiamo detto che siamo stanchi di questa operazione che ogni anno poi ci porta a un ritardo di 3-4 mesi nell'erogazione dell'integrazione salariale, che parliamo di un paio di centinaia di euro ma che pesano su buste paghe di lavoratori gas integrati, abbiamo chiesto praticamente che ci sia una misura che venga approvata per almeno 3 anni. Quindi facciamo una misura triennale e poi alla fine dei 3 anni, se siamo ancora in questa condizione, la rifinanziamo. E poi ci sono le questioni legate al TFR, sono tutte norme, come dire, secondo noi da modificare, che sono a costo zero per il governo, ma alcune norme illogiche come quelle del TFR del passivo o quella del fatto che non puoi chiedere l'anticipo se stai in amministrazione straordinaria. Ci sono norme illogiche che secondo noi andrebbero equiparate alle norme che hanno dato la possibilità poi ai lavoratori di AlcelorMittal di poter percepire la parte di TFR. Quindi abbiamo chiesto una serie di cose e su questo il 23 ci attendiamo una serie di risposte. Io poi l'ho detto, se non ci saranno risposte, se avvertiremo che c'è il tentativo di andare a perdere tempo, beh, continueremo a dare fastidio come abbiamo sempre fatto fino adesso.